Ecco, buonasera a tutti. Ecco, siamo scrittrici in tazza, qua siamo alla penultima incontro, abbiamo avuto ospiti eccezionali, siamo molto contenti, devo ringraziare Tatiana Iacci e Margherita Ghilardi che ci hanno proposto questa rassegna, tutte scrittrici bravissime, eccezionali, e oggi abbiamo Laura Pariani. Laura Pariani che è uscita, ha il suo libro in uscita, quindi è Apriti i mari con la nave di Teseo, di cui parleremo, però è un dialogo con Margherita che, come vedrete, non solo legge tutti i libri della scrittrice, vi farà capire veramente chi abbiamo di fronte. Metterai il dito in tazza. Prego Tatiana. Allora, buonasera a tutti, sono anch'io molto contenta, siamo alla quinta puntata, come la chiama Maddalena, della nostra rassegna, e volevo ricordarvi come sempre l'acquisto dei libri nelle piccole librerie, o comunque in libreria non... Sono i libri nelle piccole librerie, esatto, anche ordinandoli, chiamando, e ve li portano anche a casa in questi momenti di maggiore difficoltà per uscire. E nulla, direi che oggi sono senza la mia mascotta, perché sono a Milano, quindi manca il gatto, ma facciamo lo stesso, senza, e niente, ringrazio Laura Pariani e Margherita Ghilardi di essere con noi, e do la parola a Margherita. Buonasera, 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 siamo arrivati all'ultimo dialogo dei nostri cinque, anche se non è l'ultima puntata, perché poi avremo una tavola rotonda con professioniste del libro, le persone che permettano alle scrittrici di uscire e di essere lette. Siamo qui con Laura Pariani, io sono particolarmente felice, il libro è uscito da un paio di mesi, ma è in contemporaneo, è uscita anche la ristampa da parte della nave di Teseo, di Quando Dio ballava il tango, che era uscito a suo tempo da Rizzoli, e che Laura è il primo libro che abbiamo presentato insieme. Quindi io festeggio anche questa cosa, che ci ritroviamo al momento della ristampa di quel libro là. Laura Pariani, per sua esplicita ammissione, è la scrittrice delle cose rotte, delle cose consumate, delle cose fuori uso, che lei ripara, Laura Pariani rammenda le esistenze e i destini, ricuce le vicende piane di strappe dei dimenticati e soprattutto degli ultimi, riapre sentieri inghiottiti dalla boscaglia per portarci in luoghi dimenticati e inesplorati. I suoi personaggi sono per sua scelta personaggi marginali, diversi, ribelli alla norma, gli matti, se così vogliamo chiamarli, le streghe o le strie, come le chiama Laura in dialetto lombardo, portatori di handicap, come si dice oggi, o infelici, come si diceva un tempo, come diceva mia nonna, nomadi e migranti. Anche la sua lingua, che è una lingua particolarissima, inconfondibile, sembra cuscita intenzionalmente con scampoli. Un italiano che spesso è desueto, il castigliano, il dialetto lombardo, il latinorum delle preghiere e questo dà al suo tessuto la consistenza del racconto orale, che è fondamentale. Le sue strutture ripetono le spirali e i cerchi concentrici delle fiabe o comunque delle storie che sono narrate a voce. Ogni suo libro è costruito come una specie di matrioska, in cui ogni vicenda ne contiene un'altra, un'altra ancora, un'altra ancora, e non si finirebbe mai. Spesso sono intervallati, non in questo caso, non nel caso di Apriti Mare, sono intervallati da zone in corsivo, in cui Laura Pariani ritaglia uno spazio per la sua voce autoriale. Scava molto spesso, nei vuoti e nelle mancanze della storia, qualche volta dentro un passato che non è neanche troppo lontano, ma molto prossimo. Si svolge invece nel futuro Apriti Mare, un futuro che è cominciato dopo un incidente, o meglio un soffio mortale, così dice il romanzo, che ha spazzato via il nostro tempo, capiamo che quello che è passato è proprio il tempo che stiamo attraversando adesso, lasciando vivi solamente i bambini e i ragazzi minori di 15 anni. Quindi un mondo salvato da ragazzini, se vogliamo citare il Samorante. Per quanto il mondo neogotico, secondo me, in cui il libro ci accoglie, non sia molto migliore, o molto più giusto, di quello ipertecnologico creato da Laura Pariani in Di Ferro e Di Acciaio, l'unico, correggimi Laura se sbaglio, l'unico altro suo libro, uscito nel 2018, ambientato nel futuro, a differenza di quel libro lì, Apriti Mare, non è per me una distopia, casomai un'utopia. Se le donne e i bambini sono per Laura Pariani gli ultimi della terra, le bambine sono allora le ultime degli ultimi. Protagonisti di Apriti Mare sono bambine che rifiutano il destino di obbedienza scritto per loro dal ferro spietato ordine del mondo in cui vivono, che non è molto diverso dall'ordine del passato. Scappano, un gruppo riesce a scappare raggruppandosi, in realtà sono singole che scappano e si raggruppano, in un'inafferrabile sciame che dai boschi dell'Appennino si dirige al sud verso il mare, quindi dall'oscurità del bosco, dal buio del bosco delle favole verso la luce del mare, perché vogliono attraversarlo per raggiungere la terra senza paura. Lì intendono fondare una comunità libera, giusta e soprattutto inclusiva. La bambina ribelle, la bambina decisa a camminare controcorrente, se non addirittura desiderosa di volare, è un personaggio molto caro a Laura Pariani. L'ha dedicato nel 2017, il provocatorio è durissimo per quanto in apparenza fiabesco, domani è un altro giorno, disse Rossello Ara. Inapriti mare, che lo richiama intenzionalmente, anche se in modo un po' sotterraneo, per la presenza di una bambina con gli occhi di due colori diversi e non dico altro, per non scioparvi la sorpresa, il respiro del racconto si fa più vasto. La vicenda si allontana non solo nel tempo dall'autobiografia dell'autrice, spalancandosi al vento dell'immaginazione. È un romanzo corale, narrato in anni diversi del post-incidente o post-soffio mortale, ma in cui ogni bambina racconta la sua personale parte di storia e la sua personale parte di viaggio, che è un viaggio appunto fatto in gruppo. Come nelle favole, i dialoghi si intrecciano inanellandosi l'uno nell'altro, come nelle favole, i racconti scacciano la paura e allontanano il bau bau. Il primo capitolo, a differenza dei successivi, ma come l'ultimo, è narrato in prima persona da una voce che avrà il suo nome solo quando il lettore, come nelle favole, sarà arrivato alla fine del percorso. Laura Pariani è una scrittrice a cui dobbiamo affidarci, perché come le sue bambine ritrova sempre la strada, anche se a noi sembra persa. Di strada che va e non torna, o che invece torna, ma non va, parla anche la dedica, da cui il primo capitolo è preceduto, che è indirizzata a Viola, la nipote di Laura. Correggimi, Laura, se non sbaglio, Viola è tua nipote. mia nipote, 17 anni. Eh, come grande già. Quindi, adolescente, non sarebbe scampata, perché solo il minore di qui. No, no, ma siamo nell'anno 45esimo, quindi va bene. Avrebbe fatto parte dello sciamo anche lei. Proprio a Viola è dedicato anche Dio non ama i bambini, un romanzo del 2007 che io amo molto e che con Apreti Mare forma, secondo me, una specie di dittico a specchio speculare. Ugualmente corale, ma ispirato però a una vicenda realmente accaduta, ambientato non nel futuro, ma ai primi del Novecento, quindi nel passato, non nei boschi, ma in un luogo chiuso, direi anzi, in uno spazio concentrazionario, tra gli emigranti italiani in Argentina. In una delle canzoni in corsivo che scandiscono il testo e che si intitolano a caso Canzone delle bambine e disobbedienti, compare, oltre a Viola di nuovo, una filastrocca conclusa da un surreale ma crudo gesto di ribellione e affiancata all'immagine dell'uomo nero, dell'orco, dello spavento, che spenge nelle bambine la voglia di sorridere. Queste due immagini, la filastrocca e l'immagine, e quest'immagine, le ritroviamo identiche e ugualmente affiancate in una pagina di Apriti Mare e nel primo capitolo in cui compare lo sciame delle bambine in fuga. Si direbbe, Laura, non so, questa è la mia impressione, che l'autrice qui assolva nel nuovo romanzo alla promessa formulata nel vecchio, nell'altro, 14 anni fa, su richiesta dei suoi lettori che le dicono in questa canzone del bambino e nell'ultima canzone, che è la canzone della bambina che io sono stata, quindi in uno spazio diverso, fai vincere i bambini, salvali, che lo sciame possa attraversare il mare e trovare la terra senza paura è per noi molto più che una speranza, perché come ha detto, ha scritto Laura Pariani proprio in Dio non ama i bambini, a che serve raccontare una storia se non per realizzare il desiderio di una vita diversa che abita dentro ognuno di noi? Laura, nella nota a Apriti mare racconti che ha iniziato a scrivere il romanzo nel 2018 leggendo di un'onda umana composta soprattutto da bambini e da ragazzi, in viaggio, anzi in fuga per aggirare le autorità attraverso l'America centrale. Dici che l'è concluso alla fine del 2019 che lo è cominciato a riscrivere durante la chiusura totale del marzo dell'anno scorso, del 2020. Sarebbe stato un romanzo molto diverso senza la pandemia e il covid che ci sono capitati tra capo e collo? Com'è nato dentro di te questo romanzo e com'è cambiato in questo tempo? Non so come sarebbe stato senza questa chiusura del cosiddetto lockdown perché chiaramente i romanzi sono fatti di materiale poroso e assorbono tutto quello che ci sta intorno ci traversa e quindi la riscrittura l'ultima riscrittura del romanzo è sicuramente stata influenzata da questo clima cupo del non poter uscire del non poter abbracciare del vivere in un mondo che sembrava essersi all'improvviso molto ristretto no? Però vabbè tu prima hai citato Dio nome ai bambini il tema dei bambini è un tema che mi è molto caro e che viene fuori in tanti libri sia romanzi che racconti perché effettivamente penso che la disattenzione degli adulti nei confronti dei bambini o addirittura l'assenza degli adulti di fronte ai bambini sia davvero il problema del nostro tempo con non lo so tu hai citato l'ondomana di un paio di anni fa tre anni fa quando quando il centro america fu attraversato da questa carovana di giovani moltissimi erano minori e bambini che andavano verso gli Stati Uniti verso il muro da oltrepassare una notizia di qualche giorno fa di 114 bambini e minori su un barcone il fatto che bambini e adolescenti si mettano in viaggio per viaggi lunghissimi attraversando l'Africa attraversando l'Asia dall'Afghanistan fino alle coste della Turchia per poi arrivare in Grecia e prendere la rotta balcanica sono cose che mi colpiscono ad esempio una delle immagini su cui ho costruito la storia è un'immagine tratta da un servizio televisivo che ho visto sulla rotta balcanica e c'erano questo gruppo giovanissimi che attraversava boschi sentieri tra l'altro c'erano ogni tanto scontri con la popolazione o addirittura con uomini armati e c'era questa bambina siriana non poteva avere più di 11 anni che si teneva si tirava dietro un bambino credo un fratellino di 4 5 anni che si lamentava e si capiva aveva male i piedi insomma sto bambino e lei raccontava e andava avanti e lo tirava e lo il bambino lo ascoltava tirava sulla testa lo ascoltava e poi aveva la forza di fare ancora qualche passo qualche decina di metri poi di nuovo si fermava eccetera e poi di nuovo lei raccontava chissà gli raccontava ma in fondo alla strada c'è qualcosa gli avrà raccontato ma come una piccola shirazad e poi un'altra immagine forte che è sempre stata lì nella mia testa quando inventavo lo sciame è è una storia che mi aveva raccontato un amico regista che era stato a Sarajevo all'epoca dell'assedio e mi raccontava che i bambini dice indovina cosa giocavano giocavano al cecchino allora io mi sono immaginata questi bambini che in mezzo a questo sfacelo queste macerie e in questa situazione anche di fame e di sospetto reciproco che fanno sì che le macerie diventano luogo di giochi e quello che fa paura ai loro genitori il cecchino l'uomo appostato che può sparare a chi gioca diventa diventa un personaggio del gioco ecco sono le immagini forti che che mi hanno aiutato a pensare questo sciame che attraversa quest'Italia disastrata senza sapere bene dove sta dirigendosi perché vanno a sud perché a sud in fondo in fondo in fondo in fondo alla strada c'è il mare chissà che poi nessuno di loro ha visto ma è qualcosa che si racconta di molto favoloso forse potrebbe anche non esistere il mare tu adesso ci hai parlato di immagini e sei una scrittrice che guarda molto e che scrive con le immagini mi hai detto che di questo romanzo hai fatto anche dei disegni e che poi ci lavorerai sopra in un modo che non voglio dire perché naturalmente sarà una sorpresa per tutti i tuoi lettori ma tu hai cominciato proprio come disegnatrice come fumettara come si suol dire e nella narrativa in senso proprio in senso tradizionale chiamiamola così hai esordito abbastanza grandicella avevi già 40 anni quindi parlando di viaggi voglio cominciare dall'inizio del tuo viaggio di questo tuo viaggio perché il viaggio è un altro dei tuoi grossi temi come 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 è andato questo tuo esordio oltretutto con un libro di racconti che all'epoca non era per niente alla page con un libro così originale e così poco canonico come di Corno d'Oro hai cominciato già in controtendenza è stato facile o è stato difficile è stato più facile o più difficile perché eri una donna e anzi perché non eri una ragazzina ma eri una donna appunto e dopo dopo come è andata è stato liscio il percorso è stato accidentato allora sul tema del viaggio ti dirò che il viaggio è sì come hai detto tu uno dei temi che mi è più cari ma anche perché è un tema dei miei sogni io sogno quasi sempre di viaggiare e sogno di sbagliare la strada questo mi capita sempre nei sogni sono sogni complicati e angosciatissimi con orari treni che partono io rimango valigie che si perdono non so cancelli che sbarrano l'accesso ad aeroporti di tutto mi succede comunque viaggio o cerco di viaggiare perlomeno nei sogni e i sogni insomma hanno la loro importanza quanto al mio al mio primo libro beh inizia con un racconto di viaggio che è un racconto di emigrazione perché è un tempo siccome è ambientato nell'ottocento e a quell'epoca a quell'epoca nella Lombardia contadina in cui io sono nata viaggiavano viaggiavano i bambini verso l'America viaggiavano i tredicenni praticamente le famiglie li affidavano per non usare la parola vendevano a questi affaristi che compravano per loro dei biglietti da viaggio che poi si sarebbero fatti rimborsare in Argentina e portavano i bambini i tredicenni i quattordicenni in Argentina a fare la stagione estiva e approfittando del fatto che la stagione estiva in Argentina è quando da noi c'è la stagione invernale le famiglie si liberavano per la stagione invernale che è la più difficile da superare delle bocche da sfamare dei bambini e degli adolescenti li rimandavano indietro poi a giugno quando c'era da lavorare a casa quindi questo viaggio il mio primo racconto è il racconto di Corno d'Oro proprio di queste situazioni di viaggio devo dire che il mio esordio è stato facilitato dall'incontro con una donna straordinaria che si chiamava Elvira Sellerio che lesse il mio manoscritto una di quegli editrici che prendono in mano i manoscritti e li leggono e li scelgono e mi ricordo che mi telefonò una sera io stavo preparando pasta asciutta a mio figlio era a settembre mi mi telefona e dice sono il sellerio ho letto il suo manoscritto mi piace molto se vuole le mando il contratto domani io sono caduta un po' dalle nuvole perché effettivamente avevo provato a mandare il manoscritto a lei in Audi che mi aveva risposto dicendo ma è bello però insomma così bisogna aspettare un pochettino mica si può fare così abbiamo già tutta una serie di autori in programma quindi magari ne riparliamo tra un anno o due magari scrivi anche altre cose un romanzo loro dicevano no ecco e poi era stato mandato anche questo manoscritto a Feltrinelli a Celati allora Sellerio mi risponde e poi è successo che l'anno successivo incontrai per la prima volta dal vivo Elvira Sellerio a Roma a quell'epoca lei lavorava per la RAI e mi disse sa che lei ha rischiato di non essere pubblicata e dico in che senso e mi raccontò questa strana storia sembra fantastica raccontava che a quell'epoca suo figlio Antonio che adesso dirige la casa editrice finiva all'università Milano ingegneria Milano e lei nei fini settimana andava a trovarlo e siccome odiava gli aerei non aveva proprio paura andava in vagone letto e si portava da leggere i manoscritti quindi partiva con questo valigione pieno di carta e passava la notte fumando e leggendo e l'aveva colpito il mio manoscritto perché era una storia che andava all'indietro e quindi era una storia che aveva avuto un soprassalto quando l'aveva letto in più c'era questo strano titolo di corno odoro un titolo che perlomeno è un po' diverso dal solito e allora disse che vabbè lei aveva letto durante l'estate queste cose e poi a settembre un giorno si ritrova sulla scrivania tanti sai quei fogli con cui la casa editrice sono già tutti scritti c'è solamente da mettere il nome e il titolo del manoscritto in cui la casa editrice dice ma spiacenti non rientra la nostra linea editoriale eccetera e lei firmava a un certo punto si trova davanti questo il mio nome non se lo ricordava naturalmente però si trova di fronte a questo titolo di corno d'oro che gli era rimasto impresso e dice ma chiama il lettore e chiede ma perché rifiutiamo questo libro e il lettore dice ma insomma sono racconti nell'ottocento in più c'è il primo racconto quello più lungo così va all'indietro insomma quando mai si scrive un racconto all'indietro e poi c'è c'è questa lingua strana e lei disse ma a me piace è piaciuto proprio perché andava all'indietro perché non avevo mai visto una costruzione così e e poi è un libro di racconti compatti insomma prese il telefono e mi disse sono Elvira Sellerio se vuole mando il contratto domani ecco diciamo che mi ha facilitato molto il fatto di avere che lei l'avesse letto e se le fosse presa a cuore e poi e poi con gli altri libri c'è sempre stato un altro alti e bassi perché le case editrici sono diverse dipendono dipende dalla persona che ti accoglie nella casa editrice poi adesso le case editrici diventano sempre più grandi sempre un po' forse mi viene la parola mostruosa perché mostruosamente grandi e quindi è difficile poi parlare con delle persone di riferimento e a volte trovi nella piccola casa editrice quando sai dove sai con chi parlare qualcosa c'è un un calore perlomeno qualcuno che ti risponde ecco ecco dipende dalle persone che ci sono nella casa editrice lì va la fortuna vabbè tu hai avuto la fortuna di incontrare una persona come Elvira Sellerio di essere l'atleta tra l'altro in viaggio vedi che il viaggio proprio segna tutta la tua storia chissà se tuo figlio ha mangiato la pasta scotta quella sera perché questo mi interessa di caperlo ma forse te non te lo ricordi e io vado proprio a di corno d'oro e anzi prima di quel primo racconto che si intitola di corno d'oro e non diciamo perché e vado perché si parla di sogni no lo so ma non lo diciamo a chi lo vuole leggere se no li raccontiamo cosa può essere di corno d'oro appunto si parla di sogni di sogni che passano da due parti diverse ma io invece vado ancora prima vado al risvolto che anche questa è una cosa abbastanza singolare il risvolto di copertina scritto dalla stessa autrice questa è una cosa che mi colpì molto sì perché mi disse Elvira guardi che glielo faccio fare così perché lei mi è simpatica perché lo faccio fare solo a Sciascia ah vedi allora io mi sono accorta che era una cosa strana allora questo ti unisce a Sciascia non mi sembra una cattiva compagnia è diverso il dialetto la lingua diciamo ma tu proprio esordini cominci a scrivere questo la prima cosa che legge il lettore quando legge Laura Pariani chi sarà questa Laura Pariani le date per me sono essenziali per costruire i miei personaggi che non vivono dovunque e sempre per me per me come scrittore intendo io devo vedere i miei personaggi in uno spazio e in un tempo precisi altrimenti non riesco a trovare il loro spessore e la loro voce bene infatti tu le date le metti sempre nei tuoi capitoli nei racconti le date estreme nelle note nei congedi e hai messo le date anche qua perché anche in Apriti Mare ci sono anni diversi come ho detto c'è un anno che 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 ritorna in vari capitoli e altri capitoli che sono ambientati in altri anni ecco qui hai dovuto però crearli inventarli questi anni non c'erano già perché un tempo che hai ancora non è venuto ed è un tempo che deve venire è stato più complicato ideare un mondo futuro piuttosto che ricostruirne uno passato come hai fatto molto più spesso ti sei sentita più o meno libera ma sai una volta che tu crei una situazione devi andare avanti coerentemente di conseguenza in conseguenza per cui mi sono immaginata un mondo di bambini soli di adolescenti rimasti soli perché sono morti tutti quelli oltre i 15 anni e è un mondo che si ricostituisce a poco a poco e che sopravvive ai primi anni di grande brutalità gli ho pensato molto al signore delle mosche di Golding il mondo che si ricostruisce a poco a poco ha questi caratteri di conserva questi caratteri di sopraffazione del debole però ecco volevo a differenza di Golding volevo sapere come andava a finire cioè quando diventano grandi questi bambini lasciati soli come saranno e come racconteranno il proprio passato quindi ad esempio c'è tutta la figura di quello che 45 anni dopo è diventato una specie di inquisitore si chiama numero 5 e che ha tutto un passato di violenze da cui è venuto fuori e ha cercato di ripulirsi e sta facendo una specie di scalata sociale per arrivare al sommo potere ecco come lo raccontano questi che erano quindicenni o decenni al momento in cui finisce il mondo degli adulti e soprattutto quello che mi interessava era come raccontavano se stesse le bambine che erano diventate grandi ed erano sopravvissute allo sciame quindi il personaggio di Suleinche che perlomeno riesce a diventare adulta e poi chi ne ha sentito parlare di lontano da Barlanda che incontra da ragazzina una Suleinche adulta ha una gamba che che l'ha solo sentita così è diventata una leggenda questa cosa dello sciame del mare della ricerca del mare del talismano che cantava mamma mia c'è tutto questa a poco a poco costruire un immaginario che si è formato di nuovo intorno a tante cose che sono successe ma sicuramente lo sciame questo gruppo di bambini ribelli lascia un'impronta anche su chi viene a contatto con loro no? e vedono passare ma come mai ma cosa pensano di fare ma poverine ma sono sono matte ecco c'è c'è tutto questo pensiero che gli altri hanno nei confronti di queste bambine che osano quindi ecco ci sono la stratificazione temporale venuta un po' da sé perché mi piaceva raccontare il dopo no? e poi il personaggio soprattutto finale di una gamba che ormai ha la mia età quindi ha i 70 anni e può andare indietro a nei propri ricordi e in tutto quello che si è anche sentito raccontare quando era piccola quindi mescolando mescolando tanti tante ricordanze insomma non solo le proprie mi sa che mi sono persa un po' la tua domanda iniziale però sai che cosa mi ha molto guidato tu dicevi mondo nuovo mondo io ho pensato molto costruendo questa comunità sopravvissuta queste piccole comunità solitarie che neanche comunicano tra loro ogni piccola comunità al pensare gli altri come nemici per farlo per costruirle io ho pensato molto a certe comunità mennonite che io ho conosciuto e io e mio marito abbiamo conosciuto in un viaggio in Paraguay stavamo scrivendo questo libro che si chiamava Ceghevara aveva un gallo allora in Paraguay ci siamo imbattuti in queste comunità che vivono alla maniera sono piccole comunità vivono alla maniera ottocentesca quindi non conoscono elettricità non non c'è la radio la televisione internet figurarsi la macchina fotografica non puoi portarla entrando nella loro comunità comunità in cui uomini e donne hanno dei ruoli molto precisi e molto definiti molto diversi in cui tutti vestono alla maniera ottocentesca le donne tutte vestite uguali con le gonne lunghe nere i grandi cappelli neri legati sotto sotto la gola con un fiocco ma fin da bambine i due anni vestiti in questo modo e in cui tutti obbediscono al mandato della Bibbia che dice crescete moltiplicatevi e quindi le donne devono avere almeno sette figli le donne sono solamente delle fattrici assolutamente sottomesse obbligate cioè a fare qualsiasi cosa per la parte maschile della comunità la musica è proibita come qualcosa di diabolico e mi aveva molto colpito il fatto che si poteva cantare in chiesa però a intonare il canto doveva essere un maschio e le donne dovevano adattarsi alla tonalità del maschio che aveva intonato la canzone ecco io ho pensato a queste piccole comunità che intraviste in Paraguay tra l'altro mi aveva sempre in questo viaggio mi aveva colpito il fatto di un centinaio di famiglie tedesche di adesso siamo era 2008 2010 che se ne erano andate dalla Germania per impiantarsi in lì nella selva paraguayana e fondare una piccola comunità per impedire ai propri figli di 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 avere un'educazione come lo dà la scuola tedesca un'educazione in cui la scienza dice cose che per loro erano impossibili da credere ad esempio che c'è un'evoluzione della specie eccetera questi sostengono che la terra è piatta che solo Dio esiste e avevano isolato questi se stessi e i propri bambini in questo in questo piccola comunità fuori dal mondo nella nella foresta paraguayana e io mi immagino ecco ho cercato di immaginarmi bambini che non avessero da ascoltare nient'altro che la voce di persone impaurite scusa un attimo che accendo la luce perché qua mi sa Laura mi stai sparendo nel buio te lo stavo per chiedere io ma non ci volevo interrompere allora lo sciame vola appunto cioè vuole volare e fugge tu però hai scritto spesso di donne invece costrette e chiuse e in qualche caso se volano è perché volano di sotto e qualcuno li spinge di sotto da un aeroplano un intero libro l'uovo di Gertrudina e Gertrudina è naturalmente la monaca di Monza è dedicato appunto a figure di suore forzate e appunto spesso uccise nell'ultima pagina tu scrivi con come si può dire controbattendo con te stessa in qualche modo piano però non è vero che sia sempre la solita storia che la letteratura può anche essere gesto di libertà di salvezza perfino di redenzione e nelle pagine dei libri le sorti del passato possono venire buttate all'aria quindi non solo quelle del futuro ma anche quelle del passato possono essere cambiate e riscritte quindi se la scrittura è un enorme gesto di libertà per te bisogna essere bambine senza paura per diventare scrittrici bisogna chiedere non solo a sesamo come fai nell'uovo di Gertrudina ma anche al mare di Aperzi ma guarda un po' bambini bisogna essere per essere scrittori perché perché lo scrittore chi scrive è un personale un po' un po' particolare una persona che deve inventare continuamente luoghi personaggi sentire voci non so è una quando ero piccola e parlavo con amici immaginari e mi inventavo storie eccetera mi dicevano ma cosa stai lì a parlare da sola non è vero io parlavo con altri inventati ma insomma con altri ah verrai grande no per dire che insomma allora distinguerai tra fantasie in realtà in realtà chi scrive secondo me deve conservare un po' quella libertà di immaginazione che tutti i bambini hanno e che che spesso viene repressa durante la stand durante l'infanzia tu prima hai parlato hai accennato a domani un altro giorno disse Rossella Oara in quel libro io ho raccontato un'infanzia tipica di sformazione diciamo così in cui vengono tagliate a poco a poco le ali a questa bambina che che vorrebbe vivere in un modo diverso ecco io diciamo che la bambina che io sono stata non è che dico sia la parte migliore di me insomma nel senso che che ci sono anche parti di me adulta che mi piacciono e che cerco di far crescere ma insomma la bambina che ero è stata depositaria di tutto quello che io avrei voluto essere e i desideri ecco posso anche cancellare certi ricordi ma i desideri no i desideri uno se li deve coltivare se li deve portare dentro anzi per fare la scrittrice uno deve testardamente desiderare di 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 scrivere e di far arrivare agli altri libri perché la testardaggine è una delle doti necessarie in questa professione parliamo appunto di scrittori in la foto di orta che è un altro di me libri preferiti fra i tuoi ora è difficile scegliere però questo è un altro dei libri che io amo di più tu ricostruisci un vuoto in questa vita cerchi di colmare un vuoto cerchi di ricostruire una fotografia che è stata distrutta quindi di costruire qualcosa che non c'è più e dici perché qui stiamo parlando di una persona realmente vissuta non inventata che scrivere la vicenda di altri è quasi come raccontare un sogno di nuovi sogni non invento ricostruisco intuisco tutto al più passo le dita compassionevoli delle parole sulla fragile trama degli avvenimenti a cui le fotografie alludono tu hai raccontato tre sogni perché hai raccontato in tre libri diversi i vuoti nelle storie di tre scrittori oltre a Friedrich Nietzsche che è il protagonista della foto di Orta che è il posto tra l'altro in cui tu vivi hai poi scritto la traduzione in cui racconti gli anni ricostruisci gli anni argentini di un altro scrittore uno scrittore polacco Vito Gombrovic e poi ancora il viaggio in Argentina supposto di Dino Campana in quel viaggio chiamavamo amore dove tra l'altro appare il medico Carlo Pariani quindi un tuo omonimo non so poi se c'è una lontana parentela non lo sappiamo comunque qualcosa che ritorna a te l'Argentina la Pampa e ce n'è un altro di libro in cui parlo di uno scrittore è il momento della morte tango per una rosa è Saint-Exupery è vero Saint-Exupery vedi m'era passato quindi un altro meglio ancora così ce ne abbiamo addirittura quattro che bellezza che anch'io mi sbaglio sono contenta che mi dimentico qualche cosa mi va a piacere hai perfettamente ragione ma quattro scrittori quattro scrittori di nazionalità differenti quattro sogni se vogliamo dire come hai detto tu la cosa che mi ha colpito è che non c'è neanche una scrittrice ma in effetti c'era la voglia di ricostruire qualche vuoto allora per certi versi c'era una cosa della Jursenar una cosa teatrale della Jursenar di cui avevo letto lei ha scritto molto di se stessa il come era nato questo questo testo e mi ero immaginata molto come come lavorarci dovevo andare avevo vinto una borsa per andare per un mese alla alla casa al castello dove lei è nata e pensavo di scriverlo lì proprio dentro l'atmosfera della casa che l'ha vista bambina e perlomeno fino all'adolescenza alla prima adolescenza e poi c'è stato l'anno era il 2018 ho vinto la selezione Campiello e quindi non sono potuta partire quel giugno e l'anno dopo cioè l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso era chiuso e insomma fatto sa che insomma quella cosa della Jursenar è rimasta sempre lì e in effetti c'è un c'è una scrittrice che mi interessa molto e a cui mi sento molto vicina ed è Silvino Campo che è una scrittrice argentina autore di racconti fantastici e tra l'altro che ha lavorato tantissimo sui bambini perché anche per lei l'infanzia è un periodo di quelli in cui non so come dire quello che ci succede nell'infanzia ce lo portiamo dietro per tutta la vita e concordo con lei e le cose che succedono nell'infanzia non sono sempre favole non sono sempre favole a lieto fine e ecco l'idea c'è ma insomma io ho ancora spero di avere del tempo davanti per raccontarla ecco e allora noi ce l'aspettiamo naturalmente senti ho accennato prima al libro di Campana su Campana in cui tra l'altro gli fai molto amare la favola di una bambina che scappa che è pelle d'asino con i suoi ancora una bambina che scappa con i suoi tre vestiti del colore del tempo ecco ci dicono che è bellissimo ed è vero verso la fine se non sbaglio Campana dice scrivere è come mandare una lettera a qualcuno a chi a tante persone a voi potrei dire a voi a milioni di persone prendendo nell'insieme il tuo lavoro così compatto e così variegato allo stesso tempo perché questo cosa pensi di avere detto in questa grande lettera che hai scritto a noi lettori che potevi dire solo tu con la voce tua se dovessi dire la cosa che vivere è una grande fatica d'altra parte è una grande fatica che però non va sprecata lo dico perché molto spesso mi imbatto in persone che stanno dentro il proprio buio e che non riescono a uscirne lo dico come esperienza personale perché anche io ho attraversato dei periodi di grande buio e la scrittura la scrittura mi ha insegnato un mucchio di cose mi ha insegnato a mettermi dentro nella testa degli altri a provare a cercare di pensare come pensano gli altri a provare compassione a aprire la testa mettere antenne odorare tutte le storie possibili che stanno intorno a noi e ce ne sono tante e che è bello ascoltare ascoltare le storie farle diventare nostre farle entrare dentro di noi perché scrivere è questo non è qualcosa che che parte da noi da dentro e va fuori no è il contrario è come leggere è prendere le storie il lettore le prende dai libri che legge lo scrittore le prende dalla vita e le fa entrare dentro di sé le fa sue e dà a queste storie le parole ecco io spero di io sono una persona che ha il mondo l'ha guardato molto forse quando se muoio sulla mia tomba c'era scritto Laura Pariani il mondo l'ha guardato molto e se l'è fatto su se l'è mangiato se l'è divorato se l'è se l'è masticato se l'è digerito per per poter essere qualcos'altro che non la piccola cosa che ciascuno di noi è la piccola polvere che ciascuno di noi è insomma pensi che al di là anche delle storie della tua infanzia quel viaggio in Argentina fatto a 14 anni quindi saresti sopravvissuta avresti fatto parte dello sciame perché avevi un anno e l'assenza di tuo nonno che appunto era rimasto in Argentina è stato un discrimine anche appunto nella tua storia di narratrice è stato lì che è cominciato questo bisogno di esplorare appunto il mondo di viaggiare in tanti modi anche con la parola e esplorare gli aspetti diversi diciamo di una stessa cosa perché poi questo era anche la tua storia sicuramente quello è un viaggio che ha un po' ha segnato la mia vita sicuramente non so come sarei stata se non avessi incontrato a 14 anni che è un'età importante un mondo così diverso così altro un mondo di cui non sospettavo l'esistenza ecco sicuramente mi ha aperto davvero gli occhi e poi lì ho sicuramente vissuto molto l'abbandono prima abbiamo parlato di viaggi bambini adolescenti che che viaggiano da soli anch'io come spartiacque questo viaggio con cui mia madre da Buenos Aires mi mandò da sola in Patagonia perché lei non voleva conoscere la famiglia di mio nonno e io mi ritrovai dall'altra parte del mondo da sola e a 14 anni è difficile non hai certi strumenti per comprendere la trovavo molto punitiva nei confronti di mia madre soffrivo dell'assenza di mia madre delle mie cose soffrivo dell'assenza dell'Italia dei libri avevo un unico libro con me che era Ressurrezione di Tolstoi altra storia di viaggi verso un altro fine del mondo insomma per cui sai questa cosa credo mi abbia influenzato però d'altra parte credo che mi abbia regalato il mondo in qualche modo mia madre in questo viaggio che era un'immersione totale a 14 anni in una cultura completamente diversa in cui nota bene il sogno è molto importante la donna mappuce di mio nonno diceva che noi tutti gli esseri umani prima di nascere passano davanti a Dio e Dio gli fa vedere tante vite tante vite differenti e dice scegli un po' tu cioè Dio lascia libero di scegliere la vita che uno vuole e uno potrebbe scegliere una vita tranquilla pacificata di quelle con gli orari di quelle non so una vita senza 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 grossi problemi di salute cioè una vita tranquilla chiamiamola tranquilla tanto per semplificare io probabilmente ho scelto una vita una vita complicata di viaggi di non so che forse perché sono avere un'anima curiosa perché le anime curiose non si contentano della vita così che in cui inizi qui finisci lì e sai è tutto lineare no io me la sono scelta complicata non posso non posso dar la colpa ad altri ero e queste complicazioni questi viaggi questo questo essere inquieto che che ho dentro che mi accompagna questi sogni continui che faccio si vede che doveva vivere in questo modo non so in effetti io non so pensarmi in un modo diverso che non come scrittrice ecco Laura mi hai dato una risposta molto intensa quindi sono capisco quello che dici e quindi insomma in fondo tua madre ti ha dato la possibilità di aprire lo sguardo sul mondo hai detto sì mi ha buttato nel mondo e in qualche modo me l'ha regalato e te l'ha regalato e così allora no perché mi colpisce perché mi viene in mente nel pettine la famosa l'inizio quando pare dello strasce che dice che così ci riallacciamo finiamo riallacciandoci al mio discorso iniziale che la passione per le cose brutte per le cose che non servono le cose rotte dice probabilmente ti viene da tua madre perché invece avrebbe voluto che ti faceva sentire anche te dimenticata in qualche modo brutta che avrebbe voluto la bellezza la perfezione e quindi insomma questa mamma anche se queste madri che sono sempre responsabili però bisogna ringraziarle poi anche per questo infatti guarda una delle storie a cui sto lavorando è una storia in cui di nuovo non dico che faccio i conti con mia madre ma insomma perché io ho cominciato a scrivere quando lei è morta quindi c'è un legame molto profondo tra quello che tra quello che sono come scrittrice e lei che era sicuramente una donna singolare una donna che ha avuto i suoi guai dalla vita ma insomma sì le madri sono importanti e te li porti dietro fino alla fine e il prossimo questo è il prossimo libro che uscirà questo che stai scrivendo o ce n'è un altro già pronto conoscendo non ce n'è uno già pronto cioè è già lavorando e prendo con calma dai manzo si prende con calma ma d'alena sì con calma no ne ha scritte tantissime insomma sei una grandissima lavoratrice il tuo la tua opera benché tu abbia appunto esordito come ho detto prima non giovanissima è un'opera molto consistente quindi però sai il mio metodo è di scriverne due alla volta appunto lo so me l'hai detto per cui lo dicevo no è perché uno lo scrivo al mattino e uno lo scrivo al pomeriggio con due cose completamente diverse e così mi riposo un po' la testa no? certo lo diceva anche Virginia io vorrei dire una domanda vorrei dire una cosa se hai finito una domanda però la possiamo fare dopo Tania se no la mattina mi brontola come vuoi no 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 va bene l'ultima domanda che è la domanda canonica mi dispiace perché l'ultima volta che la faccio Laura la faccio proprio a te allora ormai lo sanno tutti comunque Todomodo ha inventato il Serendipity Publishing che sono 36 classici ma in realtà dentro il classico il lettore trova un libro contemporaneo e la domanda che ti faccio come ho fatto alle altre scrittrici che hanno dialogato con noi prima di te è in quale di questi classici vorresti che Maddalena nella fattispecie nascondesse una coppia di api di mare allora è abbastanza scontata la mia risposta mare Moby Dick ah che meraviglia perché la ricerca una ricerca c'è un desiderio dietro questa balena bianca che bisogna trovare e c'è il mare il mare ci deve essere insomma avevo pensato quasi non so all'Odissea anche lì c'è il mare ci sono tante vetture ma è la storia di un ritorno e non mi piace eh no perché le strade che ritornano vanno come ci ha insegnato e quindi bene direi su cinque scrittrici cinque scrittrici hanno scelto cinque classici di cinque scrittori scrittoli allora devo dire che la maggior parte sono sono gli scrittori maschi all'inizio dei pub dei serendipi che è così e no devo dire questo di Silvina della dell'Aucampo non cioè ora che l'ha detto perfetto mi torna che sia una delle scrittrici fantastica è il motivo per cui mi piaceva leggerti vedi che fantastica e ti posso chiedere quali sono i quattro romanzi distopici che consiglieresti non so non mi faccio le bibliografie non lo so uno uno ci sono ci sono beh c'è il grande 1984 che ho visto anche tra i vostri libri ma non saprei beh una cosa una cosa che sembra quasi ovvia dire è quello della della Atwood quello dell'Ancella insomma è che ci sono tantissimi romanzi ad esempio che anche adesso sto cominciando a frequentare cioè adesso negli ultimi anni ho cominciato a frequentare perché mio marito ha sempre lavorato nel campo della fantascienza ma tantissimi sono purtroppo scritti in inglese mai tradotti è una grande sì si legge poco in Italia ecco è vero e si traduce poco perché lo comprano poco no era una domanda perché appunto mi incuriosiva sì sì certamente e comunque l'Atwood l'Atwood verrà in Italia il 2 di ottobre la premiamo a ad Alba è venuta anche a Firenze sì sì ecco anche a Tadomodo è venuta ah sì sì porterò i saluti porterò i saluti sì 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 mi ricami più che ho anche una domanda ma insomma più che altro volevo davvero ringraziare Laura e Margherita perché è stata una conversazione che mi ha anche commosso in certi punti molto intensa molto bella e quindi è sempre diciamo una gioia per me sentire persone che si confrontano su temi appunto anche quello dei bambini delle madri della nostra infanzia che sono temi molto complessi e molto difficili prima hai detto appunto che la testardaggine è necessaria nella professione dello scrittore allora pensando al tuo sogno ricorrente dei viaggi e di questi cancelli di queste chiusure ho pensato sentendo poi anche Margherita che ha raccontato dei tuoi libri e di te ho pensato alla tenacia nel rompere gli schemi cioè mi sembri una persona che ha proprio questa tendenza essere molto tenace nel rompere gli schemi ed è difficile nella vita diciamo che viviamo quindi una persona che vuole appunto una bambina che vuole vivere in modo diverso come hai detto anche tu prima ti chiedo così se hai una risposta se c'è uno schema che vorresti rompere anche che non hai ancora fatto se hai un desiderio di uno schema che vorresti rompere e che ancora non hai rotto c'è qualcosa ancora che vuoi quando scusa mi torino in bomba quando scrivo cerco sempre di scrivere qualcosa di molto diverso dal libro precedente no? Margherita cosa ne cose il fantastico esiste il fantastico esiste da todo modo comunque non lo so cioè mi piacerebbe adesso col libro che sto iniziando a pensare su mia madre scrivere ancora una cosa che non ho mai scritto qualcosa di diverso da tutto quello che ho scritto finora boh non lo so sì a me piacciono le sfide ecco questa è la sensazione sei molto tenace in questo poi diciamo che le mamme sono sempre delle grandi sfide dentro di noi fuori grazie dove sparite eccomi ecco salutiamo tutti Laura direi che si è fatta l'ora Laura grazie infinite è stato un dialogo bellissimo che ringrazio tanto questo libro e poi viene a trovarsi a todo modo a Firenze quando ci libereranno da tutte queste questioni va bene però non perdere il treno alla fine non perdere il treno tanto va bene grazie Laura ciao i bambini ci sono i bambini ciao ciao Laura ciao a tutti ciao a tutti